Continua la visita pastorale del Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino che sabato 18 giugno ha visitato le parrocchie di San Pietro Apostolo, Irrigali e Santi Carlo e Felicita in Roveto e Busche. Dopo un iniziale momento di accoglienza è seguito l'incontro con i genitori, i ragazzi e i catechisti e poi con il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici Diocesano e con la confraternita Mariana. Nel pomeriggio un momento di dialogo e conclusione con la Santa Messa presieduta dal Vescovo.